E proprio a proposito di tangenziale est-esterna vi mostriamo delle immagini molto belle dall'alto per vedere appunto lo stato di avanzamento dei lavori. Un giro in elicottero che è stato effettuato proprio in concomitanza con la visita del Premier Letta da parte dell'amministratore delegato di tangenziale est-esterna Maullu. Queste appunto le immagini, come vedete, lavori che proseguono. Sono infatti 32 i chilometri di tracciato da Gratebrianza a Meleniano per un investimento complessivo di 2 miliardi di euro prevalentemente a carico di soggetti privati. Da ieri la nuova tangenziale e la Brescia-Bergamo-Milano risultano strutturalmente unite dallo scavalco della linea ferroviaria Milano-Bergamo-Venezia. Mentre il lotto sud, che comprende il trafficatissimo nodo viario di Meleniano, entro ottobre dovrebbe essere interessato anche dall'avvio delle opere del collegamento Binaschina-Cerca, atteso da almeno 40 anni soprattutto dai pendolari. La tangenziale est-esterna, assieme alle opere connesse, dovrebbe dunque essere completata e attiva entro il 2015.